Una conferenza stampa, quella di stasera al Marfis Pub, nella quale si ufficializzerà solo l'ingresso nella giunta valente di Sino Caracappa. L'attribuzione delle deleghe assessoriali invece subirà un rinvio la prossima settimana almeno e quanto è venuto fuori nelle ultime ore a seguito di qualche fibrillazione all'interno della maggioranza che sostiene il sindaco di Sciacca. Non sarebbero piaciute in particolare a qualcuno le nostre anticipazioni giornalistiche, che comunque non sono state smentite, in ordine alla possibile l'attribuzione al fondatore del letterando in feste dello Sciacca Film Fest non solo delle deleghe di Mario Tulone ma anche di quella alla cultura, delega quest'ultima tuttora detenuta dalla vice sindaco Gisella Mondino. A puntare i piedi in particolare sarebbe stata Elvira Frigerio, consigliera comunale di Sicilia Futura. Francesca Valente avrebbe garantito che le deleghe assessoriali saranno tutte oggetto di discussione anche nell'ipotesi di un possibile aumento del numero degli assessori. Si è temuto probabilmente che la renuncia della sola professoressa Mondino della cultura in questa fase apparisse come una sorta di smacco ad personam senza giustificazioni politiche valide. E così dopo che Alberto Sabella ha avanzato l'ipotesi delle larghe intese respinte da più parti dell'opposizione e dopo che Annuccio Cusumano ha ribadito che Brunetto e Segreto hanno troppe deleghe mentre altri assessori ne avrebbero troppo poche adesso si pone anche la questione di Sicilia Futura a cui Gisella Mondino fa politicamente riferimento. Non si capisce a questo punto se e quando il sindaco potrà incaricare formalmente Sino Caracappa quale componente della nuova giunta a meno che l'interessato non abbia già accettato di ottenere esclusivamente al momento le deleghe di turismo, sport e spettacolo ma ricordiamo che tra quelle in capo a Mario Tolone c'era anche la delega alla protezione civile rimandando ai tempi politicamente più maturi anche l'assessorato alla cultura. Insomma non c'è alcuna tregua all'orizzonte per Francesca Valenti costretta tra un'emergenza rifiuta e la questione idrica a tappare anche le falle della possibile insoddisfazione politica tra i gruppi che la sostengono. La sensazione prevalente è che tutto verrà rinviato almeno a lunedì quando il primo cittadino intende riunire gli assessori per proporre loro una nuova rimodulazione delle deleghe come dire che ogni passaggio va fatto seguendo evidentemente i criteri della politica vedremo come andrà a finire.